Bentornati su MyFootballJersey. Rivediamo una maglia che avevamo già visto in versione fan. Trovate qui in alto la recensione. Questa è la terza maglia del Barcellona, questa volta in edizione Player. Grazie a tutti. La maglia è veramente molto bella, molto particolare, con i colori, diciamo così, della squadra riportati in queste macchioline, rossa e blu. Il costo, lo vedete qui sopra, molto interessante, però la maglia che vi assicuro è fatta veramente molto bene e che arriva anche molto velocemente. Se volete ordinare la maglia o avere maggiori dettagli, trovate tutti i riferimenti qua sotto, nella descrizione del video. Andate a vedere perché insieme a questa maglia troverete tante alte sorprese che vi attendono. Prima di lasciarvi la parte finale, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma per noi vuol dire tantissimo. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!